Una bomba ecologica è ancora in Via Anelli, a pieno d'orta di Bolognano, dove durante i lavori di rimozione di 155 tonnellate di rifiuti pericolosi, si è scoperto che ci sono ulteriori 130 tonnellate di materiali tossici, che rappresentano una grave minaccia per il territorio e per la salute pubblica, poiché rischiano di inquinare la falda acquifera. Bisogna reperire altri 120 mila euro, ha spiegato oggi il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa, che già si era adoperato per la bonifica dell'area che si trova vicino alla ex Montecatini. Inizialmente erano stati stimati circa 150 tonnellate, ne sono state rimosse 155, ma di tonnellate in tutto ne sono 285. Quindi bisognerà trovare le giuste risorse finanziarie da parte della regione Abruzzo, che si sommano a quelle già stanziate, per ridare un segnale importante, chiaro, inequivocabile al territorio, a questa frazione importante, che è una zona residenziale, che da troppi anni sta soffrendo sia da un punto di vista della qualità dell'area, della salute. Il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, chiede che venga effettuata un'indagine epidemiologica. Oltre a spingere a fare l'intagine alla Polizia Provinciale per definire una volta per sempre se il colpevole del sottosuolo se è riconducibile allo stesso sito adiacente, visto che le analisi quasi corrispondono, io lancio un allarme sanitario per quanto riguarda casi tumorali che abbiamo avuto nel passato nel nostro territorio, se possono essere riconducibili a questo tipo di inquinamento. A confermare la gravità della situazione ci sono le analisi effettuate dal tecnico nominato dal Comune, il geologo Giovanni Ciccone. Quello che è venuto fuori è la presenza di metalli pesanti con concentrazioni molto alte, che raggiungono i limiti, quelli che sono cancerogeni, ecotossici e irritanti. Quindi la situazione era prevedibile perché il sito è quello adiacente al sito della Montecatini. Le disagi hanno evidenziato scarti di materiali industriali, quindi collegabili all'attività della Montecatini. Quindi la criticità era prevedibile, però quei valori così alti sono veramente allarmanti.